e dove mi fermavo anch'io io partivo lento di proposito ma non a pensare di guidarlo su invece non arrivi proprio venire su di prepotenza è spampi che non prova eh ma guarda che non vuol dire eh sì è montesa da 8 milioni di euro ma che torno ma che è morto gli occhi ma che comoda ma che comoda bravo 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 un po' molto lì figa ragazzi c'è quel piede lì che è troppo lungo ahi Frank, niente, rifatti una vita lì sotto nel prato la storica una capanna la c'è del fuoco ci trovi là ti do un po' di te caldo che ti riprendi ascolta io l'ho fatta quattro volte prima di arrivare su quindi tu sei la seconda ah quattro volte ho dovuto fare prima il vito è seduto sul sasso però no no la sento già come come viaggia io come faccio io molle e poi gli do cazzo faccio faccio il 360 faccio ma sei fuoco no no si sente subito eh si sente subito come va è partita la zombi si dai 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 puoi stare a casa dal lavoro tre volte adesso